Comandante Meloni, Santa Barbara, per voi un punto di riferimento, oggi una giornata importante per la Guardia Costiera e per i Vigili del Fuoco. Sì, una giornata importante perché si rinnova il nostro impegno, è una giornata in cui noi ci uniamo, infatti a seguire c'è il tradizionale pranzo di corpo, quindi cerchiamo di rinnovare il nostro impegno, il nostro sacrificio, il nostro servizio per la collettività. Dietro le nostre divise, anche se non sempre questo è compreso, però ci sono tanti sacrifici, lontananza dalle famiglie, quindi questo è un lavoro, un'immissione direi, che sentiamo fortemente e questa giornata ci serve proprio per rinnovare questo impegno. Ecco, nel corso del suo intervento ci ha tenuto a precisare e a ricordare anche le ultime vicende di cronaca che hanno visto coinvolti i due colpi, ma soprattutto anche le vicende di cronaca riguardo ai due poliziotti uccisi pochi mesi fa che a Ischia abbiamo conosciuto bene. Sì, è dedicato a loro perché questo è l'esempio, noi ci ricordiamo degli uomini in divisa solo quando a volte poi avvengono questi episodi, invece io ho richiesto, ma questo l'ho visto molto spesso, rispetto e collaborazione perché, ripeto, è giusto ricordarli nel momento in cui avvengono questi episodi, però è bene anche sapere che il nostro è un impegno quotidiano al servizio della collettività. Bene, Pierluigi, così come i Vigili del Fuoco, che sono morti ad Alessandria, erano persone come noi che facevano semplicemente il loro lavoro e lo cercavano di fare al meglio. Hanno pagato con la vita e sapevano che correvano questo rischio, però per noi oggi era importante ricordarlo. Ho precisato, sottolineato Pierluigi perché Pierluigi probabilmente qualche anno fa era qui con noi a festeggiare Santa Barbara e quindi lo sentiamo più vicino solo per questa questione, però il pensiero va a tutti quelli che oggi non ci sono più e alle loro famiglie. Perché Santa Barbara è così importante per voi, per questi due corpi? Santa Barbara protegge, come significato è stata scelta dalla Marina perché la serenità verso chi va contro ha un pericolo imminente. E quindi è questa, diciamo chiaramente sia per i Vigili del Fuoco che per la Guardia Costiera e il Soccorso. Salvare gli altri è elemento caratterizzante ed oggi è il motivo anche di questa chiesa. Poi c'è, per quanto mi riguarda, una nota personale. Io sono nato e cresciuto in un quartiere dedicato a Santa Barbara e ho un fratello che è Vigile del Fuoco. Quindi Santa Barbara per me è guida di vita, questo lo dico con una forte emozione dentro. E lo stesso è per tutti i Vigili del Fuoco, per i marinai. Sono contento, oggi qui avevamo Guidone che con noi è l'anima di questa festa, anche lui oggi. Per cui è veramente una giornata importante e ringrazio tutti i presenti. Voi che ci racconterete questa giornata, ma tutti quelli che erano qui presenti perché ho sentito veramente la vicinanza e l'affetto di tutti. Per il comandante Meloni però era l'ultima Santa Barbara a Ischia. Innanzitutto come mai e credo che quindi ci sia stata un'emozione ancora più forte da questo punto di vista. Sì, è l'ultima Santa Barbara perché chiaramente a settembre 2020 o comunque in quel periodo più o meno terminerò i miei due anni di incarico. Per cui già so che sarà l'ultima Santa Barbara, salvo ovviamente variabili o imprevisti. Quindi l'emozione sicuramente c'è. Però come ho sottolineato è l'ultima Santa Barbara da comandante. Non mancherà l'occasione per me perché il legame con questa isola è stato forte dall'inizio e ancora di più oggi. Non mancherò sicuramente di essere presenti in altre vesti, ma questa diciamo che è l'ultima da comandante. Ve ne saranno altre perché ho tanti amici qua tra la Guardia Costiera ma anche tra i Vigili del Fuoco. Quindi non mancherò nelle prossime occasioni.